Donald Trump. Spero di riuscire a spiegarvi e di farvi capire una volta per tutte perché questo personaggio, Trump, è così odiato. Guardate, non c'entrano le battute che fa, non c'entrano le cose che dice, le cose più assurde, le cose più apparentemente lunari che lo rendono un personaggio che diffonde fake news, che è non credibile. Non c'entra niente. C'è un episodio della storia recente che spiega tutto di Donald Trump e spiega perché Donald Trump è così osteggiato, perché viene visto come una minaccia per il sistema americano e la sua stessa sopravvivenza e perché addirittura centinaia di repubblicani, cioè di gente con un passato all'interno del partito, con un pedigree repubblicano di tutto rispetto. Parliamo addirittura di colui che fu il vicepresidente di George W. Bush. Preferiscono appoggiare Kamala Harris pur di non vedere di nuovo Donald Trump alla Casa Bianca. Bene, ve lo spiego io perché Donald Trump è così odiato in questa puntata dello Zabaglione. Dobbiamo parlare del caso Boeing 737 Max. Ora, questa non è una puntata tecnica, non voglio entrare nei dettagli di perché il Boeing 737 Max è stato un aereo problematico e perché ha avuto degli incidenti gravi. Voglio però ricordarvi che ci furono due incidenti gravissimi, due vere e proprie catastrofi. Una avvenuta il 29 ottobre del 2018 e ha coinvolto un 737 Max della Lion Air in Indonesia, un aereo che è decollato, si è messo in picchiata ed è arrivato in picchiata fino a terra. Qualche mese dopo, nel marzo del 2019, il 10 marzo del 2019, un altro incidente ha coinvolto un altro 737 Max. Questa volta dell'Ethiopian Airlines in Etiopia. Stessa scena, l'aereo decolla, si pone in assetto di picchiata e arriva a terra praticamente a 90 gradi rispetto al suolo. Due incidenti devastanti. Facciamo un passo indietro. Il 737 Max è una evoluzione del progetto 737, che è uno degli aeroplani più diffusi e più di successo della storia, del mondo. Un aereo che si vede in tutte le salse. È un progetto molto vecchio, ma è un progetto che costantemente viene aggiornato. Quindi 737 è quella classe di aeroplani, diciamo. Poi di modello in modello l'aereo cambia per adattarsi ai tempi, agli ultimi ritrovati tecnologici e via dicendo. Il 737 Max era l'ultima versione nel 2018 di questo aereo, quindi un nuovo aeroplano che veniva venduto alle compagnie aeree e che doveva essere aggiunto al parco macchine che già stavano utilizzando. Ma il 737 Max era anche un prodotto finanziario, da un certo punto di vista. The Boeing aveva intrapreso ormai una strada che stava iniziando a scollarla dalla qualità dei prodotti che uscivano dalle sue linee di produzione per farla interessare un po' di più a ciò che avveniva nell'etereo mondo di Wall Street. Tra l'altro con il 737 Max l'operazione è anche di successo perché Boeing in borsa raggiunge valori mai visti prima mettendo sul mercato questo aeroplano. Quindi iniziamo ad inquadrare il problema. Quell'aereo è un prodotto di punta di una delle aziende di punta americane che oltretutto non si occupa soltanto di velivoli civili ma si occupa anche di armamenti e quindi lavora anche per il governo, per lo Stato e quindi stiamo parlando di una cosa molto importante per l'economia americana. Dopo il primo e anche dopo il secondo incidente in realtà Boeing continua a difendersi. Dice che la colpa è dei piloti se gli aerei sono venuti giù. L'aeroplano è perfetto, non ha nessun problema, ma semplicemente questi piloti non erano sufficientemente addestrati. Arrivano addirittura a dire che se fossero stati i piloti americani, anziché indonesiani ed etiopi, sicuramente l'incidente non sarebbe avvenuto perché i bravi piloti americani ben addestrati non fanno queste cose. Tutto vero, la reazione di Boeing fu questa. Noi siamo perfetti, siamo bravissimi, siamo americani, siamo cazzuti, i nostri piloti sono bravissimi, state tranquilli volando con piloti americani, non avrete problemi. Evitate di volare in certi paesi del terzo mondo dove i piloti li prendono così dalla strada. Il problema è che dopo il secondo incidente diversi paesi del mondo hanno iniziato a mettere a terra il 737 Max in attesa di capirci di più, di vederci chiaro, perché due incidenti, sono tanti, due incidenti che poi si scoprirà hanno la stessa identica dinamica, sono un qualcosa che ovviamente accende molte lampadine e molte spie di allarme e quindi i paesi del mondo, Europa compresa, mettono a terra il 737 Max. Sapete chi non lo fa? Gli americani, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti tardano, non mettono a terra il 737 Max. Chi è che deve decidere? Chi è che deve intervenire? Beh, c'è un'autorità preposta per la sicurezza del volo, la FAA, la Federal Aviation Administration, ed è lei che deve decidere se mette a terra l'aeroplano o se permettergli di volare e continuare a solcare i cieli americani. E la FAA prende tempo. Ma mentre la FAA prende tempo, il presidente Donald Trump, qualche giorno dopo l'incidente avvenuto in Etiopia, il secondo, il 13 marzo del 2019, durante una conferenza stampa che era già stata convocata e che doveva in realtà occuparsi di altro, cioè se non sbaglio dei confini con il Messico, quello era l'oggetto di quella conferenza stampa, ma Trump si siede al tavolo, guarda i giornalisti e gli dice stiamo per mettere a terra tutti i 737 Max. Colpo di scena. È la prima volta che un presidente degli Stati Uniti d'America mette a terra un aeroplano, un modello di aereo, perché è compito ovviamente dell'autorità dell'aviazione, della FAA. Ma la FAA fino a quel momento indecisa latita e Trump prende l'iniziativa, mette l'aereo a terra. Ora, se voi cercate sui giornali come è andata questa storia, in realtà voi non troverete questo. Voi troverete un falso storico, una manipolazione della storia, che oggi chiamiamo verità, ma che è un'altra cosa. Voi se cercate sui giornali oggi che cosa successe allora, troverete che la FAA ha messo a terra i 737 Max. Ma non è quello che è successo. È stato Trump, a sorpresa, a farlo di sua iniziativa. E solo dopo, e intendo dire nelle ore successive, la FAA ha detto sì sì, ma lo stavamo facendo noi. Ma attenzione alla catena di eventi. È Trump che mette a terra il 737 Max. E solo dopo che Trump fa questo annuncio, spiazzando tutti, prendendo tutti di sorpresa, l'FAA si accoda e dice sì sì, abbiamo avuto anche noi nuove evidenze dell'ultimo incidente, quello del 10 di marzo. Ci siamo accorti che la dinamica effettivamente era la stessa di quello avvenuto ad ottobre e quindi l'aereo deve stare a terra. E voi dite, ma se i giornali dicono una cosa diversa, come facciamo a fidarci di te? Ve lo dimostro, non c'è problema. Vi faccio vedere questo articolo, vi metto anche il link in descrizione, dove si rende conto della polemica e si prende anche un po' in giro Trump. Si dice che Trump ritiene di essere un esperto di aviazione e quindi lo si tratta come al solito come un imbecille, facendolo sembrare uno che pensa di essere un tuttologo e che si sveglia una mattina e decide di scavalcare le competenze di un'agenzia governativa perché è un mitomane. Si dice che Trump quindi eccede, come al solito, nelle sue prerogative, che scavalca gli altri, che non guarda in faccia a nessuno e che oltretutto mette l'industria in difficoltà perché, come riportato nell'articolo, normalmente la FIA, prima di fare un comunicato pubblico, dicendo al pubblico che un certo aeroplano viene messo a terra, lo comunica in prima, in forma privata, alle compagnie aeree in modo tale da dargli istruzioni su che cosa fare e metterle pronte per anche rispondere evidentemente ai quesiti dei loro clienti e a loro volta alle domande dei giornalisti. Trump invece scavalcando tutti viene trattato come al solito come un idiota, come un incapace, come un mitomane che pensa di poter fare tutto lui perché, pensate un po'. Negli anni 90, per qualche anno, Trump ha avuto una compagnia aerea e quindi si sentirà l'esperto anche del mondo dell'aviazione. Va bene, facciamo un attimo un fast forward, uno zompo in avanti e chiediamoci perché? Quegli aerei erano caduti? Davvero l'aeroplano era perfetto? Davvero i piloti semplicemente erano degli incapaci, male addestrati? Oggi possiamo dire qual è la causa di quei due disastri? La causa è che il 737 MAX, come vi ho detto all'inizio, è semplicemente una linea di aeroplani, però ogni modello è diverso dagli altri, ogni tot anni esce un nuovo modello che rimpiazza il precedente. Bene, il 737 MAX è l'ultimo modello in quel momento storico e ha una nuova motorizzazione. Il problema è che i nuovi motori che vengono montati su quell'aereo, gli ingegneri si accorgono che creano qualche piccolo scompenso rispetto al progetto originario. Scompenso che deve essere compensato, cioè in certe condizioni di volo questi nuovi motori, che erano posizionati in modo leggermente diverso da quelli più vecchi, creavano la tendenza dell'aereo a cabrare, cioè ad andare con il muso verso l'alto. Siccome non è una cosa auspicabile, gli ingegneri della Boeing hanno pensato bene di mettere un piccolo pezzettino nel software dell'aeroplano che comandasse in automatico l'aereo in modo tale da compensare questa tendenza a cabrare. Quindi in quelle condizioni di volo in cui il motore faceva sì che l'aereo tendesse ad andare su, in automatico l'aereo correggeva questa manovra involontaria e data dalla nuova motorizzazione rendendo in realtà l'aeroplano agli occhi del pilota un aereo che volava dritto come una spada. Intendiamoci, non c'è niente di male in questo, è una cosa che si può fare, che si fa, sono autocorrezioni della macchina che fa in automatico per correggere degli assetti di volo che non sono voluti o non sono auspicabili, quindi niente di male. Qual è il problema però? Il problema è che questo sistema dovrebbe essere segnalato ai piloti, cioè i nuovi piloti che vengono messi a bordo di questo nuovo modello di 737 e che sono abituati a pilotare quello più vecchio devono conoscere questo sistema, perché se devono intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi caso, magari perché il sistema si guasta, devono sapere dove mettere le mani per disattivarlo, per sapere quando sta intervenendo e per poterlo controllare. Non è un male avere degli automatismi, però questi automatismi devono essere insomma a conoscenza del pilota. Ma se la Boeing avesse segnalato questa nuova funzionalità ai piloti, le autorità di tutto il mondo, le equivalenti della FIA americana, avrebbero obbligato le compagnie aeree che compravano questa nuova versione del 737 a fare un addestramento specifico ai piloti prima di farli salire su questi nuovi modelli, perché giustamente le autorità dicono va bene il pilota è addestrato per quel vecchio modello, se il nuovo modello è di forme rispetto al vecchio, ha dei nuovi sistemi che il pilota deve conoscere, non te lo faccio mettere il pilota su quell'aereo nuovo, se prima non gli fai fare un corso di aggiornamento. Ma siccome la Boeing l'aeroplano lo voleva vendere e sapeva che le compagnie lo avrebbero comprato più volentieri, sapendo che non sarebbero state obbligate a far fare dei costosi corsi ai piloti, che sono costosi perché in quel momento, nel momento in cui il pilota fa il corso non può essere a bordo di un aereo e quindi non sta lavorando e quindi a te compagnia costa un sacco di soldi, allora ha pensato bene la Boeing di nascondere tutto sotto il tappeto, non far sapere l'esistenza di questo sistema, nasconderla, truffando tutti, vendendo l'aereo come se fosse stato l'equivalente del modello più vecchio e quindi ottenendo così di vendere tanti aerei a tante compagnie che tanto non dovevano neanche far fare i corsi di aggiornamento ai piloti. Ecco cosa c'è alla base di queste due tragedie e di quelle centinaia di morti, una truffa perpetrata da Boeing. In quei due aerei il sistema è entrato in funzione non naturalmente perché doveva correggere giustamente quell'assetto non voluto, ma perché quel sistema si basava su un sensore che su quei due aeroplani si era guastato, ma siccome i piloti non sapevano che quel sistema c'era, non potevano neanche disattivarlo per salvare l'aeroplano. Quindi quello che è successo è che il sistema si è inserito all'insaputa dei piloti e l'aereo si è messo in picchiata a 90 gradi fino a che non è esploso tutto. Lo so vi sembra assurdo, ma allora sentite qua. Andate ad ascoltarvi l'inchiesta giornalistica molto ben fatta che trovate su Netflix. si chiama Downfall, il caso Boeing. Lì dentro scoprirete che i giornalisti si sono accorti che dopo il primo schianto, quello di ottobre, quello della Lion Air, la Boeing prende coscienza del problema e prende coscienza del problema anche la FAA, la Federal Aviation Administration, la quale stima che ci potrebbe essere un incidente di questo tipo ogni due anni, statistiche alla mano. E alla fine che cosa succede? Che la Boeing convince la FAA che lavorerà nelle settimane successive al problema, in breve tempo troverà una soluzione software e distribuirà l'aggiornamento a tutti gli aeroplani. Quindi tranquilli, risolviamo tutto, teniamo tutto sotto il tappeto. Ah, non lo dico mica io, lo dice il documentario giornalistico su Netflix, piattaforma che certamente non può essere sospettata di avere simpatie trampiane. Quindi andate a vedere quel documentario perché tra l'altro è molto interessante. E qui adesso noi però torniamo a Trump. Immagino che abbiate iniziato a capire l'antifona e quello che è successo quel 13 di marzo del 2019, quando Trump a sorpresa durante una conferenza stampa dice mettiamo a terra i 737 Max, praticamente ultimo paese del mondo perché ormai nel resto dei paesi i 737 Max erano già stati messi a terra, mancavano giusto giusto soltanto gli Stati Uniti. A quel punto quando Trump lo annuncia però la FAA è costretta a dire sì, anzi guardate proprio questa mattina avevamo ricevuto le informazioni che ci facevano capire la gravità della situazione e quanto l'ultimo incidente sia simile effettivamente a quello di ottobre e quindi qua c'è un problema, mettiamo a terra tutto. Altro che quello che leggete sui giornali adesso se fate una ricerca Google su quello che è accaduto, la FAA mette a terra gli aeroplani. Sì, certo che lo ha fatto. Lo ha fatto dopo che Trump lo ha dichiarato nella conferenza stampa, ma la domanda è lo avrebbe fatto comunque o avrebbe aspettato un terzo incidente? Qual è il problema qui? Il problema qui è che c'è un sistema di potere ed è il solito sistema di potere fatto da Wall Street, dal mondo finanziario, dalle grandi corporation e anche da pezzi dello Stato e pezzi delle amministrazioni che sono colluse con questi poteri. Vuoi davvero creare uno sconquasso finanziario in una delle tue più grandi e importanti? tanti aziende che non solo è una company importantissima e multimiliardaria perché vende i suoi aerei nel mondo e peraltro è in guerra e in battaglia con l'altra grande compagnia concorrente che è quella europea, si chiama Airbus. Vuoi davvero creare uno scompenso tale che potrebbe farle anche perdere la battaglia? Vuoi metterla in ginocchio a Wall Street facendo perdere un sacco di soldi a tutti gli investitori? Vuoi davvero creare un problema così grande in una company che oltretutto ti fornisce anche armi e armamenti per le tue forze armate e che quindi è una compagnia a tutti gli effetti strategica per gli Stati Uniti? Beh, pensaci bene perché le centinaia di morti non sono americane, non sono morti negli Stati Uniti, sono morti in Indonesia e in Etiopia e per quanto l'aeroplano sia problematico e con quel difetto sarebbe diventato l'aereo più mortifero della storia, comunque la statistica gioca a tuo favore. Se la Boeing è in grado di risolvere il problema con un aggiornamento software nell'arco di poco tempo, magari sei fortunato e un altro incidente non accade. E in tutto ciò chi arriva a romperti le uova nel paniere? Donald Trump. Donald Trump che si sveglia una mattina, mitomane con me, crede di essere anche un esperto di aviazione e ti mette a terra gli aeroplani. A quel punto chiaramente la FAA non avrebbe potuto sostenere una posizione diversa, non avrebbe certamente potuto esporsi e decidere di invece mantenerlo in volo, quindi non può che seguire la decisione del presidente che comunque ha la parola finale e l'autorità per imporre la sua decisione e quindi quello che succede è che in quel momento l'aereo viene messo a terra. Avete iniziato a capire perché Donald Trump è così odiato? Avete iniziato a comprendere perché quest'uomo è visto come una sciagura alla Casa Bianca da una certa parte del paese? Perché non guarda in faccia a nessuno. Quando si dice che Trump è un outsider, che non è parte dell'establishment, si intende questo. Non si intende che fa le battute, dice le cazzate, mette i meme su Twitter o è un personaggio un po' eccentrico, pettinato strano e con uno strano colore arancione. Si intende che fa queste cose qui. E chi fa queste cose qui evidentemente di solito fa una brutta fine. Ma volete la ciliegina sulla torta? Volete proprio l'ultima delizia di questa storia? Bene, guardate quello che succede oggi. Oggi il DOJ, cioè il Department of Justice, il Dipartimento di Giustizia, il Ministero della Giustizia, a cui capo c'è il Procuratore Generale degli Stati Uniti d'America, che cosa fa? Propone, quest'estate, un patteggiamento a Boeing. Noi vi facciamo una multa, voi vi dichiarate colpevoli, pagate questa multa e noi in cambio non vi facciamo finire sotto un processo penale, che diventa una cosa molto grave e vi sconquassa completamente. Boeing accetta, con tutti i parenti delle vittime dei due aeroplani venuti giù, che vanno a manifestare, vanno a Washington con i cartelli, con le foto dei parenti morti. Ma tutto questo non serve a niente, perché il Dipartimento della Giustizia e Boeing si mettono d'accordo sotto la presidenza Biden e tutto viene chiuso con una multa che, per quanto pesante, parliamo di circa 250 milioni di dollari, multa rimane e poi pesante, va anche messa in relazione ai bilanci di Boeing, che comunque rimane sotto osservazione, ma continua ad essere lì e a non dover rispondere penalmente delle centinaia di persone che ha assassinato. Perché quando tu sei a conoscenza di un sistema tecnico su un mezzo di trasporto e lo nascondi, e sai che questo può creare degli incidenti, a mio avviso, e questa è la mia visione delle cose, sei un assassino. È inutile che ci giriamo intorno. Il caso Boeing 737 Max è iconico per capire chi è Donald Trump e perché Donald Trump viene così osteggiato. Bene, mi fermo qui. Volevo raccontarvi solo questa storia per spiegarvi come la vedo io. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Se vi piace quello che faccio, sapete già che con le cose che dico non ho sponsor e quindi non posso mandare avanti la baracca grazie agli sponsor, ma lo posso fare grazie a voi perché il mio sponsor siete voi. Siamo quasi in 3000 abbonati a questo canale. L'abbonamento base costa 1,99 euro al mese, un caffè e mezzo al mese. Se vi piace quello che faccio, qua sotto c'è il pulsante per abbonarvi. Grazie a tutti, alla prossima.